Ci provo a dare il massimo quello che posso e spero che dimostro che posso giocare qua a Milan. Io sono contento, anche per me è la sorpresa, sono contento che sono qui e spero, come ho detto già prima, che aiuto a questa squadra ad andare su. No, si parlava troppo, sono quattro anni e mezzo in Italia e ogni sei mesi si parlava di una squadra, l'altra, allora sono contento che adesso è già quasi ufficiale, perché prima erano sempre, io non sapevo niente, ho visto tutto in giornali e era un po' così così. Se mi mette il ministro a destra o a sinistra o a mezzo io ci provo a dare il massimo e spero che do tutto per la squadra.